buongiorno bella gente e benvenuti nel mio canale ricordatevi che il mio canale non parlo parlo di diversi argomenti c'è l'argomento quella della bellezza naturale quindi trattamento per i capelli e per il viso massaggi e pulizie del viso pedicure manicure tutti i trattamenti che riguardano il mio corpo o il corpo generale io lo pubblico qualsiasi trattamento che io mi uso e mi funziona bene lo condivido con voi ma non solo vado un giro nella comunità valenziana per chi vive qua a valenza e vi interessa scoprire dei posti interessanti dove andare a passare un weekend una giornata all'aperto nella naturalezza vi trovate anche questi e soprattutto vi trovate anche acquisti generali e eliminare l'energia negativa togliere la sfiga queste cose quindi bella gente se vi piace il mio canale se mi piacciono i miei video comunque ho vari argomenti per varie fasce di persone oggi invece vi porto 5 tecniche o 5 massaggi o 5 trattamenti per togliere il doppio mento questi esercizi devono essere fatti almeno una volta alla settimana per avere un risultato ottimale cominciamo con il nostro trattamento per mantenerci giovani sempre freschi cominciamo prima di tutto cominciamo a fare un po di stretching per il nostro collo tante volte facciamo esercizi yoga stiramente attività fisica però di solito dintichiamo il nostro collo quindi tutto il peso dello stress della nostra giornata rimane in carico o caricato sul nostro collo quindi prima di cominciare con il nostro trattamento per togliere il doppio mento cerchiamo di fare questo stretching per il nostro collo io lo faccio in questa maniera qua tutte le volte che devo fare un trattamento un massaggio per il viso e questa volta andiamo per il doppio mento fine video vi faccio vedere un massaggio velocissimo ma è fantastico per attivare la microcircolazione della nostra pelle per avere la pelle sempre elastica giovane e fresca sempre adesso cerchiamo di sciogliere le nostre spalle se vi piace il canale se vi piacciono i miei video mi raccomando non dimenticate di lasciare un like iscrivetevi al canale adesso cominciamo con il nostro esercizio per il doppio mento quello di girare il collo o a destra o a sinistra e cercare di dare un bacio in aria tirando la bocca quindi in conseguenza si tira tutta la muscolatura o la maggior parte della muscolatura sul collo e anche su il viso io vi consiglio di farla tipo 20 secondi o 30 secondi a un lato e potete ripeterla minimo due volte due volte per lato adesso andiamo ad appoggiare la lingua la punta della lingua sul palato spengendo la punta della lingua sul palato ma non sui denti provando a sentire o fare il è duro però da veramente un ottimo risultato non toccando non spingendo i denti ma spezia spingendo la punta con la punta della lingua il palato adesso andiamo col prossimo massaggio è quello un esercizio quello di cercare di tirare fuori la lingua o fare la linguaccia cercando tirare a fuori la lingua con tutta la nostra forza utila fuori tutta la lingua che abbiamo come sentirete che vi tira tutta la muscolatura sul collo anche questo esercizio è molto efficace adesso invece andiamo a fare la risata isterica sentirete come tira tutta la parte del mento sotto fine video ci sarà un massaggio veramente molto interessante adesso invece andiamo ad aprire la nostra bocca più che possiamo col grido però aprendo proprio la la mascella mi viene da ridere perché penso a fare però l'effetto è quello però l'ho fatta in silenzio io vi consiglio sempre dopo aver fatto questi esercizi anche i massaggi sul nostro viso sempre 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 fare dei stretching perché sforziamo sia la mascella sforziamo i muscoli nel collo e nel viso quindi gli diamo un po di tregua con un bel stretching un altro segreto che vi lascio in questo video è fare i massaggi col pettine massaggi col pettine come avete visto nel video precedente lo uso sia per la pancia e anche un video che avevo fatto circa all'incirca un video che avevo fatto all'incirca un anno fa l'uso anche per fare la cellulite per eliminare la cellulite quindi se vi interessa potete andare indietro a vedere i miei video sia per la cellulite che per la pancia ma soprattutto con lo stesso pettine si possono fare dei massaggi facciali attiva la mini circolazione che abbiamo sulla pelle e soprattutto ci aiuta a tonificare la pelle e i muscoli bella gente se vi piace il mio canale se mi piacciono i miei video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e ci vediamo al prossimo video